Il 21 novembre la chiesa di Sinclair a Pronto, venite il premio nato alla terra santa a Gerusalemme, per informazioni 416-618-8244. Il 24 novembre la chiesa di Sinclair a Pronto, venite il premio nato alla terra santa a Gerusalemme, per informazioni 416-244-321. Il 24 novembre la chiesa di Sinclair a Pronto, venite il premio nato alla terra santa a Gerusalemme, per informazioni 416-724-221. Il 24 novembre la chiesa di Sinclair a Pronto, venite il premio nato alla terra santa a Gerusalemme, per informazioni 416-7244-321. Il 25 novembre siete invitati alla Viteopoli Family Celebration Dinner in Etopico, per informazioni 416-243-713-9. Il 25 novembre la chiesa di Sinclair a Pronto, venite il premio nato alla terra santa a Gerusalemme, per informazioni 416-7244-321. Il 25 novembre la chiesa di Sinclair a Pronto, venite il premio nato alla terra santa a Gerusalemme, per informazioni 416-7242-321. Il 25 novembre la chiesa di Sinclair a Pronto, venite il premio nato alla terra santa a Gerusalemme, per informazioni 416-7242-321. Grazie. Grazie.